Ci toglieranno internet e smartphone? Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Si dirà caso e coincidenza temporale, sì, ma se lo anticipa il Forum Economico Mondiale, però c'è da scommetterci. 2018 Event 201, previsione pandemica da coronavirus azzeccata, partita One esattamente un anno dopo la pianificazione virtuale della gestione emergenziale simulata dal Forum Economico Mondiale. 2021 Cyber Polygon, ovvero previsione e simulazione di un blackout globale di internet. E ci stanno azzeccando pure questa volta, anche qui esattamente un anno dopo la pianificazione della gestione emergenziale del Forum Economico Mondiale. E' infatti di questi giorni la notizia che dagli USA gli 007 americani hanno avvertito senza giri di parole. Se in risposta al sabotaggio del gasdotto Nord Stream venissero tagliati i cavi sottomarini del web a largo dell'Irlanda, si potrebbe completamente bloccare internet in tutta Europa, facendo saltare nei mancati collegamenti di rete ogni transizione commerciale e finanziaria, ma pure tutte le comunicazioni militari con gli Stati Uniti dai membri Nato. E sì, perché danneggiare i cavi sottomarini di internet pare sia poco più che un gioco da ragazzi. Non richiede sacrifici umani, esplosioni né ordigni da piazzare come nelle incursioni che si vedono nei film, ma un semplice drone subacqueo, una sorta di hunter-killer sottomarino telecomandato nell'Electromagnetic War, la guerra elettromagnetica gestita da remoto anche negli Smart Osean. Che poi, più che un ricatto, il blocco di internet sia ormai un'arma di controllo militare, politico e sociale, ce lo dicono in questi giorni dall'Iran. Colpevole di aver scorrettamente indossato il velo islamico dalla morte della giovane Masha Amini, decetuta a seguito delle violenze subite dalla polizia religiosa di Teheran, tumulti e proteste del popolo iraniano contano una cinquantina di vittime e la repressione, anche col blocco di internet e social media, interrotti pure Whatsapp e Instagram, noto come Facebook, Twitter e YouTube, siano vietati ormai da anni. Un attacco cibernetico potrebbe diffondersi più velocemente di un virus biologico. Da Davos lo scorso anno avevano previsto i promotori del cyberpolygon, valuto dal transumanista Klaus Schwab per simulare la gestione di una guerra cibernetica nella nuova pandemia digitale. Già perché se da oltre 30 anni ci viene spacciato come spazio libero e partecipativo, dentro e su internet in realtà si nascondono le mire predatori del grande reset, il cambiamento epocale, tanto che per la cosiddetta crisi energetica, razionamento e interruzione dell'energia elettrica, si parla pure di telefoni cellulari e smartphone presto muti e silenziati, inerti e senza rete. La catastrofe è inevitabile, aprendo la finestra di Overton, titola cellulari.it. Prepariamoci a tutto, sta arrivando l'inverno. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, salute ambiente, geopolitica, privacy, transumanesimo e controllo sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci. www.osisana.com Grazie a tutti.